bella ragazzi qui raptor e oggi sono qui con... bella ciao a tutti qui dadde non dovevo fare un'entrata così però cazzo è bruttissima da fare è bruttissima va benissimo cosa ha sempre fatto così? vabbè lasciamo stare comunque raga volevo dirvi solo una roba se anche a voi skype fa schifo ecco e inizio con questo argomento di merda no no lo dico e lo pubblicizzo perché tanta gente vede i video proprio per vedere se anche a loro fa schifo o se solo io sono sfigato sulla roba elettronica perché cazzo mi si sono fottuti i cristalli liquidi del pc mi si è bruciato già un computer lasciamo stare vabbè eh sì vabbè ma cazzo gli hai messo dentro l'alcol gli hai dato fuoco che coglio vabbè vabbè c'ho il pvr che sta andando a fanculo vabbè ma il pvr vabbè poi c'ho ho 200 euro di cuffie che sta andando a fanculo anche quello vabbè ci sei sentito sopra non è vero non è vero ti ricordi? sì ma non mi sedevo mai sopra quelle cuffie lì sempre sulle altre che costavano che costavano cos'era? 80 euro forse che ne avevo tre paia di quelle cazzo di cuffie tre paia in uno ancora funziona solo una cassa dopo dopo ne avevo comprato un altro paio avevo subito spaccato la cuffia lì di gomma e sembrava che mi stavo torturando alla sob c'avevo la plastica contro l'orecchio puttana di quella troia in un altro c'avevo ancora fuori i fili delle cuffie adesso raga per chi non lo sa sto usando le le turtle beach adesso faccio pubblicità le turtle beach mi dovranno dare 10 euro vabbè sto usando le turtle beach per commentare uso sempre queste qui che sono le turtle beach px21 sì perché c'hanno dei nomi per chiamarle cuffie cazzo che sono allucinanti pxxp xop e che cazzo c'è scritto allucinogine ma poi magari xp magari è per la taglia perché quando io vado al supermercato a prendere qualcosa vedo le maglie xl xp magari poi la taglia dovrei uscire dalla chiamata dai eh comunque presento presento su dai vai vai parlo porca troia ci abbiamo tre tacche su skype ci abbiamo tre tacche su skype se feila la chiamata mi incazzo di brutto no no non feila un cazzo qua raga se feila la chiamata su skype metterò un post su facebook in cui insulterò skype in promessi sposi nel senso proprio di non si molla un cazzo di 20 pagine di 20 pagine vi faccio vi faccio un romanzo di insulti stavo babbettando vabbè di insulti verso skype pensavo che era la connessione faccio un romanzo di insulti verso skype che che faccio veramente ah qua si è si è bloccato pensavo che si era bloccato il pc mamma mia mi stavo parlando male invece era saltato lost comunque sono già passati tre minuti di video forse sarebbe meglio che dico che cos'è sta partita perché io vi sto commentando il video ma non vi ho detto neanche che cazzo faccio vabbè che poi lo leggete dal titolo perché lo scrivo nel titolo però mi sembra giusto mi sembra giusto dire che cazzo ho fatto o no allora raga come vedete siamo su mv3 penso che l'avete visto già da quattro minuti vabbè e siamo su mv3 raga e oggi farò oggi sì eh sì oggi oggi ho fatto oggi oggi vi porto un che ho toccato il microfono si sarà sentito casino vabbè oggi vi porto Genova no quello della base licata dai fammi dire che cazzo porto e non dire l'altro porto perché ti sputo in faccia allora raga vi propongo così ti puli vi propongo una bellissima moab fatta sempre di assalto raga non cinese una bellissima moab fatta di ACR col mirino laser e silenziatore adesso mi incepo un'altra volta eh fatta su Ardat in cui farò 71 uccisioni e una morte e come vedete è fatta di uccisioni ricompensa assalto e stavo giocando contro com'è che si chiamano quei tipi straforti overpower che non mi ricordo più ah stavo giocando contro i carnage come vedete che sarebbero i macellai quelli lì che fanno la carne vabbè allora raga è arrivato è arrivato che testa di cazzo è arrivato il momento ragazzi di leggervi una barza assurda adesso ve la cerco ve la cerco allora aspetta è questa qui eh no ok non è questa porca puttana non la trovo più fosse ancora indietro allora due per ai no aspetta questa qua di un negro si perde nel deserto dopo la leggo perché già che parla di un negro ah ok questa qua l'ho trovata l'ho trovata zitto 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 allora prima notte di no sì prima notte di nozze lui dopo aver fatto all'amore c'è scritto invece dell'amore vabbè dopo aver fatto l'amore dice a lei cara sono sempre stato incuriosito da una cosa lei dimmi caro lui ma come hai fatto ad arrivare al giorno del tuo matrimonio vergine ed illibata vabbè lei oh caro è sempre stata tutta una questione di culo vabbè vabbè lasciamo stare vabbè lasciamo stare ma basta prima era era una merda era una merda no in conflitto ad altre aspetta che devo devo dire una cosa molto addio molto impressionante raga prima è saltata la connessione da skype perché se non avete capito perché prima stavo insultando skype proprio così alla cazzo non è che mi son messo così per niente è perché ogni volta che commentiamo su skype raga si feila sempre la chiamata e dopo non è che dici si feila la chiamata e trovo il pezzo che abbiamo fatto prima così magari senza andare sbattimento all'attacco insieme no 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 non me la mette proprio e beh ma è colpa di quella tua e di Pamela e infatti dopo devo chiamarla e dirgli che è veramente una stronza se c'è qualche tipa che si chiama Pamela che sta guardando i video non la sto offendendo è una bellissima tipa stai tra sto solo insultando un programma vai tra zia ti dico la battuta che mi hai fatto prima su whatsapp che volevo sputarti in faccia che battuta? quando io ti ho chiamato zio ah no ma sono non no no ok ok zio io faccio no sono no aspetta che devo dire un'altra roba devo dire devo dire un'altra roba prima che mi dimentico allora ragazzi molti mi hanno chiesto di mettere anche dadde nel road su ghost ma siccome raga quel gioco lì bisogna usare le cuffie per giocare perché se no perché negli altri no no negli altri non sei obbligato ad usare le cuffie in quel gioco lì quel gioco lì è stato fatto solo per le cuffie è stato fatto soltanto per le cuffie se te non hai un cazzo di dolby e non è un cane inglese sono è il dolby surround il suono delle cuffie vabbè vabbè se te non hai delle cuffie a dolby per casterio già non si capisce un cazzo se non si ha delle cuffie a dolby non si riesce a giocare quindi raga se non faccio i gameplay road con lui è perché dovrei avere quattro orecchie cioè mettermi due cuffie un paio di cuffie che sento lui su skype e un altro paio di cuffie che commento bravo ma no che sento il gioco non che commento no sarebbe impossibile se fai tipo come i fili degli scobidoo che fai l'intrecciato che metti ad esempio una cuffia in una maniera l'altra nell'occhio in modo che tiene l'altra cuffia nell'altro occhio e l'altra cuffia nell'altra orecchia quello potresti farlo però saresti tipo un mago per vedere la televisione no comunque raga questa settimana qui sto a casa a fare un cazzo tutto il tempo perché sono da solo a casa e chiamerò anche lui a fare qualche fare qualche episodio e vedremo di fare qualche numero possibilmente tipo 1,2,5,4,9 ecco sì qualche numero giusto? che coglione possibilmente ragazzi in quel tempo in quel tempo che lui verrà da me in questa settimana faremo 5,6 episodi alla volta perché poi non ci sarà più perché io ricomincerò a lavorare e dopo il tempo non ci sarà perché visto che faccio 9,10 ore al giorno è un po' dura da stare a casa e sinceramente raga quando si arriva a casa alla sera esausti perché io non è che faccio il fruttivendolo o spargo le buste nel supermercato che cazzo è io faccio un lavoro un po' stressante perché per chi non lo sa faccio il meccanico d'auto e arrivare a casa la sera dopo 9,10 ore di lavoro tutto il giorno sotto le macchine è come fare raga 6,7 ore di palestra al giorno vi posso assicurare che mettervi dietro a fare un commentary è un po' difficile comunque a parte sta roba della vita sociale che vi ho raccontato no no ma è giusto giusto no comunque è la verità raga adesso vi metto dietro come vedete un video al giorno proprio perché sto a casa a fare un cazzo ma se no dirò tu commande dovrei metterne uno ogni due giorni o uno ogni tre giorni ma uno ogni tre giorni magari no se ce la faccio metto uno ogni due giorni visto che adesso c'ho Eulo c'ho Eulo bravo e allora applaudi come la madonna e magari se la tipa non mi stressa alla sera vi carico no mi metto a giocare un paio di RTC alla sera e magari riesco a fare qualcosa allo stesso comunque la partita cazzo la partita è quasi finita porca puttana non ho detto non me sono neanche accorto è volato così è volato volare una barzelletta la veloce dico una barzelletta la veloce perché agli uomini di una certa età cresce la pancetta per dare un certo tetto ad un disoccupato ciao dai di veloce la conclusione che sta per finire il video se vi è piaciuto questo video mettete un bel like un bel commentozzo e iscrivetevi mi raccomando e noi ci sentiamo alla prossima bella bella ragazzi ciao 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 ciao